Arrivano uno dopo l'altro, poco dopo mezzogiorno, hanno età, provenienza, specialità diverse, ma sono tutti campionissimi, come indica la giornata che Alfredo Ambrosetti ha organizzato anche quest'anno a Villaponti. A farsi notare da subito, come lo skyline di una grande città, sono i giganti del basket, targato Ignis, riflessi di un talento stagionato e impresso nei loro luminosi sorrisi. Se dovesse dare un consiglio a un giovane che vuole tentare di diventare un campione come lo siete stati voi, cosa gli direbbe? La base di tutto questo è la disciplina, se lui ha la disciplina, un po' di talento, un talentoso grande, ci può arrivare se ha quella dose di passione, perché ci sono ragazzi talentosi che non hanno quella voglia di sacrificare e rimangono lì. Non poteva mancare Antonio Bulgaroni, pilastro manageriale di un basket che il toto ha giocato, presieduto, guidato, sostenuto e che oggi porta in dote il colosso Luis Cola. Accompagnati dalla splendida voce di Noa, vediamo sfilare la stella di ieri e conduttrice di oggi, Sara Simeoni, lo zio per eccellenza Beppe Bergomi, il mitico Livio Berruti e poi Adorni, Bordini, Centa, la pluri medagliata Vezzali, oggi al governo e in collegamento da Roma. Risuonano i nomi più altisonanti del ciclismo, Bartali, Coppi, Binda, Girardengo e quelli dei campionissimi di oggi, cioè i protagonisti di una stagione sportiva e olimpica mai così entusiasmante. Basti citare Martinenghi, Morlacchi, Barlam, Cesarini e Tortu. E a proposito di stelle, c'è anche chi, con gli astri, ha una particolare confidenza, Luca Parmitano, astronauta e ospite d'onore. Maestro di cerimonie, Pier Bergonzi, della Gazzetta, insieme a lui Ferruccio De Bortoli e Stefano Zecchi, oltre alle principali autorità del territorio e al Presidente di Camera di Commercio, orgoglioso di una ripartenza che, quanto ad attrattività, promette davvero bene. Ringrazio tantissimo Cavaliere Ambrosetti perché oramai è un qualche anno che organizza questo evento che è strategico, importante, bello, affascinante e perché sposa le caratteristiche che dicevi tu del territorio. Quindi Villeponti, proprietà di Camera di Commercio, Varese Sport Commission, un fil rouge che non può che culminare qua con un evento di livello internazionale. Patrone di casa, neanche a dirlo, Alfredo Ambrosetti, insieme all'inseparabile Lella, moglie del Comandante Supremo, ma anche esponente nazionale di quella magnifica sfida che risponde al nome di Special Olympics. Per Ambrosetti la parola d'ordine è emozione dell'incontro, del ricordo, della celebrazione di ciò che per lui conta più di tutto, dare un senso alla propria vita. Il fatto che tu organizzi sempre e costantemente i campionissimi, cosa significa per te e soprattutto per loro? Significa che così ho l'attenzione di Matteo Inzaghi, rete 55. E l'anno prossimo cosa ci fai? L'anno prossimo non so ancora, devo ancora concepire. Grazie mille. Grazie mille. Smile, smile, without a reason why, without a reason why, love, love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you, don't listen to a word they say, cause life is beautiful that way. Grazie.